Oggi questa è la salita per la partenza per il Monte Guglielmo. Abbiamo parcheggiato a Pezzoro, dopo tutta la Gardone Valtrompia, tutta la Valtrompia, siamo arrivati a questo parcheggio super elevato. La prima volta che si vede nel video Matteo Bertocchi, qua invece c'è Andre, è un bel torrente. Pensavo facesse freddo, invece fa caldo, quanto mai. Però Guglielmo è 2000 metri, quindi magari in cima fa freddo, anzi penso che potremmo trovare la neve, vedremo più tardi in un'altra situazione. sono rimasto stupito pensavo fossimo già periodo invernale e invece si sta regalando ancora un po di foliage guardate che colori che c'ha il bosco abbiamo appena passato degli alberi dove c'erano solo degli uccellini che ci lanciano addosso le pigne ci cadevano da parte sulla strada Zusto c'erano Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Adesso c'è il pezzo un po' più ripido Che è tipo Quello in mezzo si sale Si sale dritti fino là in cima E dopo siamo sulla cresta Sulla cresta prima della Madonnina finale Abbiamo fatto il pezzo più ripido E siamo sboccati sulla cresta Che però non si vede nulla E oggi va così Come tre faggi e come Come un'altra volta Adesso penso sia ancora un'oretta Abbiamo già fatto Un bel po' di disrivello Perché il pezzo ripido Non c'è distanza Sali un sacco E arrivi quasi in cima Infatti 50 minuti per la cima Segna il cartello Qua siamo a 1700 E la cima è a 19 Quindi mancano 200 metri di disrivello E senza accorgercene Siamo arrivati alla cappella Cioè alla cima Siamo arrivati in cima Siamo a Montaguglielmo Lì in mezzo c'è Matteo E più indietro c'è Andre Non si vede nulla Ha salutato là in fondo La cappella Pian piano adesso arriviamo A.F. 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 E. A.F. A life without you, a life without you